ciao a tutti bentrovati e niente stavo come si dice dalle nostre parti scalza pugliando tra i video del telefono ed ho trovato uno slideshow di un vecchio lavoro che ho fatto qualche tempo fa e trattasi del rifacimento del bagno del mio Dora 912 e ho detto perché no potrei potrei inserire una musichetta e inserirlo tra i vari video su youtube niente io spero spero che vi piaccia e che non sia noioso e andiamo a vedere insieme questo questa piccola questa piccola galleria di foto che ho fatto e dopo se in caso vi parlerò vi spiegherò bene quello che ho fatto quello che ho dovuto fare insomma andiamo andiamo a vedere e 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 spero che vi sia piaciuto lo slide show e niente praticamente praticamente e e tutto è nato che c'era mia moglie che stava facendo la doccia e mi sono accorto che tracchilava l'acqua da sotto il mobile e sono andato a vedere il piatto doccia e come già sapevo c'era sopra sì un tupo cioè un latoppo c'era un latoppo fatto con il una lascia di metropresina tipo quelle delle pareti del camper sagomata e appoggiata sopra e ero stato un lavoro di latoppo nel niente battendo 110 cm non mi sono accorto che praticamente il sinigillante lì era tutto rovinato l'acqua che entrava sotto. Niente, praticamente ho dovuto togliere tutti e due i pezzi di vetroresina e mi sono accorto che sotto il piatto dolce praticamente non c'era più, era tutto strepolato. Niente, praticamente sono rimasto malissimo perché il camper l'ho comprato 5-6 mesi prima e niente, praticamente ci ho dovuto mettere mano, anche se poi già l'avevo visto eh, insomma non è che non l'avevo visto, però insomma pensavo che durasse un po' di più, un po' di inverno, niente, praticamente ho chiesto consigli a, come sempre, Vincenzo Pererano se potessi trovare dei ricambi, oppure se poteva qualcosa, ma all'inforzo di farlo da un suo amico in acciaio Wilox non potevamo farlo. Io praticamente non me la so sentita perché le distanze da me e Vincenzo sono tante. Non volevo, non volevo dargli il peso di questo, di questo lavoro perché comunque sia un lavoro un po' particolare e dove avrei dovuto dargli le misure io, avrei dovuto calcolare il fuorisguardo della parete, se c'era, quanto ce n'era e niente, praticamente c'era il rischio che andavo a dare delle misure non proprio esatte a chi doveva sborgere il lavoro e praticamente c'era il rischio che quando andavo a montare il piatto doccia c'era qualche problema. Allora, siccome sono capoccione, ho preferito, niente, farlo, farlo da me e ho cominciato a tirar fuori il piatto doccia, quello che rimaneva più che altro e niente, con l'aiuto della resina e del panno ho cominciato a ricostruirlo, come avete visto nel video, creando un calco che poi sono andato a stuccare per bene e verniciarlo in maniera che venisse proprio lucido e liscio, come se fosse finito, perché quello praticamente poi mi serviva la dima per il nuovo piatto doccia. Allora, una volta praticamente creato questo piatto doccia, questo calco del piatto doccia, siccome non sapevo proprio quando andare avanti, ho chiesto consigli anche a un altro Vincenzo, Vincenzo Paurigolo della Famagamper di Casoria, se non sbaglio. Ciao Vincenzo, è una bravissima persona, devo dire che quando ho avuto bisogno è stato molto disponibile, anzi consiglio a tutti, se vi date quelle parti a Napoli e agli altri problema, niente, lui è sempre disponibile, è sempre pronto all'attacco, come dire. Niente, e praticamente Vincenzo mi ha spiegato bene come andare avanti con il calco, seguendo passo passo, mi sono riuscito a creare il piatto doccia nuovo e come avete visto, insomma, è venuto un lavoro abbastanza di iscritto. Una volta finito il piatto doccia, l'ho presentato, era proprio perfetto, aderiva agli angoli, proprio perfettamente, infatti mi sono sfruttito di me stesso, mi sono troppo disegna, io pensavo che neanche ci sarei riuscito a far lavoro al genere, perché non è un lavoro in cui sono manciappato, insomma. Vabbè, insomma, per quanto riguarda il piatto doccia, ci siamo riusciti, è pure un bel lavoro. Niente, ho dato una bella pitturata alle pareti, con della vernice apposta, e poi ho fatto un restyling dei mobili, praticamente, ho dato quasi tutto, ho lasciato il sale e scendi della doccia, che è stato verniciato color alluminio, e praticamente anche il lavello l'ho gettato via, e ho rifatto questo tipo di lavello che avete visto nelle foto, fatto tutto a mano, in legno, e praticamente realizzato con una ciotola d'acciaio, di quelle per l'insalata, detto di l'insalata, una semplice insalatiera, ovviamente. È venuto fuori un bel lavoro, no, ho montato tutto, adesso ho pochi più spazio nel bagno, sinceramente è molto più accogliente. Niente, va bene, detto questo, spero, insomma, che il tutto sia stato gradito, e come sempre vi chiedo di commentare, e se vi va, iscrivetevi, attivate la campanellina, perché praticamente ci saranno altri video, e come sapete, fra poco continueremo anche il progetto delle stature d'aria della C200. Niente, va bene, dai, basta così, che per oggi vi ho legato un po' troppo, mi raccomando, statemi bene, e camera now compagna.